Facciamo un esempio, vince il no, se vince il no, la prossima legislatura ci sarà qualcuno che dirà voglio fare le riforme costituzionali, volete che non arrivi qualcuno, io me lo immagino io sono il senatore Marco Bianchi della prossima legislatura, come? Il senatore Raggi! No, aspetta, io l'ho detto ieri alla Raggi, noi siamo per la collaborazione istituzionale lo stiamo dimostrando di tutte, il fatto che lei non abbia voglia di fare, la senatrice non è un grande problema, l'importante è che gli venga la voglia di fare il sindaco, inizia a fare il sindaco e poi sul resto è una giornata Allora